Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida, oggi vi mostrerò come ottenere tutte le falene lucenti del trono mondo di Sabaton. Come ho promesso nei precedenti video, questo sarà il video definitivo con tutte e 10 le falene lucenti. Nella descrizione avrete il singolo minutaggio di ogni falene lucente così da poterla trovare più veloce. Io vi auguro una buona caccia, nel caso in cui non capiate qualcosa scrivetelo nei commenti che vi aiuterò. L'unica cosa che vi chiedo gentilmente è di iscrivervi al canale per vedere altri contenuti a tema Destiny 2 che porterò e se il video vi è stato d'aiuto di lasciare un mi piace. Detto questo ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi! 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 Ciao ragazzi!